E' vera questa cosa che dice il tizio, che il presidente del Canada è scappato a gambe elevate a causa della protesta dei camionisti contro l'obbligo vaccinale? Ovviamente no. Innanzitutto, uno più importante, non sapete proprio niente. In Canada non c'è il presidente, non c'è il presidente. Forse volevi dire il primo ministro. Se poi scopri e indovini chi è il capo dello Stato in Canada e me lo scrivi nei commenti, ti regalo una bambolina della regina Elisabetta. Due, siccome le parole sono importanti, se tu scrivi scappato a gambe elevate, dai un'idea di quello che è successo, che non è assolutamente così. Sembra che lui nella notte, oddio, ci vengono a prendere, scappiamo, scappiamo. Invece non è così. E' una procedura standard. Se i servizi segreti, se le guardie del corpo valutano che ci sia un rischio per l'incolumità del capo dello Stato, del primo ministro, del presidente, lo portano in un luogo sicuro. Negli Stati Uniti l'Air Force One è sempre pronto a decollare per portare il presidente al sicuro di eventuali pericoli. Il vicepresidente viene portato in un altro posto, li tengono separati, per garantire la continuità di governo. Questa cosa prescinde dalla volontà del presidente, del primo ministro, del capo dello Stato. Obama, quando li venne presidente, fu costretto a cambiare lo smartphone perché i servizi segreti valutavano che il suo smartphone non fosse abbastanza sicuro. Queste procedure sono ancora più importanti dopo quello che è successo a Washington nel gennaio del 2021. Ricordi l'assalto al Capidoglio, gli scemi vestiti da orsetto? Secondo te dovevano lasciare lì Trudeau così? Perché non si sa mai, magari succede qualcosa di brutto. L'altra cosa che vi sconvolge è questa roba che è in una località segreta. E no, certo, lo spostano per metterlo al sicuro, però ti dicono dove lo mettono. Oh ragazzi, lo spostiamo in un altro posto ma adesso vi diciamo dov'è. Anzi, no, 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 aspetta, aspetta. Lo spostiamo in un altro posto, gli diamo due ore di vantaggio, poi vi diciamo dov'è e ricominciamo. Se lo trovate lo rispostiamo. Ma cosa credi che sia? Nascondino. Grazie. Grazie.